A Chiaravalle Centrale, ieri sera in Via Alloro, celebrata la Santa Messa, linea a Bruno Santoro. Don Roberto, questa sera in Via Alloro si conclude il giro, mi faccia passare questo termine, della Santa Messa all'aperto. Prima Pilati, poi il rione Centro Storico Vignale, adesso Via Alloro. Vivere con gioia la nostalgia del passato, in un luogo in cui si è cresciuti e che chiaramente, visto oggi, appare leggermente diverso. Sì, come dicevo prima, soprattutto celebrando la Messa qui in Via Alloro, dove abbiamo iniziato questa novità di celebrare le messe prima della Novena, poi anche nel rione Vignale, i centri storici della nostra città, fare il punto di riprendere la nostalgia del passato. Tanti di noi appunto ci siamo cresciuti in questi vicoli, come dicevo prima la battuta, per noi quando eravamo piccoli sembravano grandi, adesso ci passiamo, diciamo proprio di filo a filo, però questo fa capire che abbiamo avuto anche un'infanzia felice, più spensierata. Molte volte lo vedo nelle grandi metropoli, città, i bambini che sono costretti a stare o chiusi in casa, oppure se hanno la possibilità di qualche centro sportivo o anche oratoriale per poter stare insieme. Noi invece abbiamo avuto questo grande dono di avere questi spazi in cui abbiamo vissuto con quella serenità e anche un'educazione familiare in cui veramente siamo cresciuti veramente bene. Sette sabbati in preparazione della festa di Maria Santissima della Pietra, cinque sono già trascorsi, ormai siamo alla vigilia. Lei nel manifesto usa una frase di Papa Francesco, vivere e affidarsi a Maria per essere strumento di misericordia per i familiari, per gli amici e per i parenti. E questo è il filo conduttore di questa festa? La Madonna, come dice il concilio Vaticano II, è il modello proprio della Chiesa. Guardando a lei noi abbiamo tutto ciò che ci serve proprio per diventare cristiani e vivere la nostra fede in un rapporto con il reale che veramente cambia, ma sta cambiando anche perché noi dobbiamo influire con la nostra fede in questo cambiamento sempre per il meglio. Proprio guarda caso stamattina ascoltavo in un'intervista una persona che diceva in questo modo stai attento a puntare il dito perché quando punti il dito il resto dei dito e delle mani puntano verso di te. Quindi qual è la tua parte? Non basta dire che bisogna cambiare le cose, ma anche tu, qual è la tua parte? Quindi essere protagonisti, ma soprattutto come lei accennava questa sera, guardare, essere ottimisti, guardare il bicchiere pieno e non quello mezzo vuoto. Sì, l'ottimismo fa parte proprio della fede. Se non c'è ottimismo non c'è speranza, se non c'è speranza rischiamo tutto di fare per, diciamo, per routine. A che senso ha? Celebrare sempre la festa della Madonna della Pietra, anno per anno, se non guardiamo con quella speranza che le cose migliorino. Se bisogna farla soltanto perché si è sempre fatto così, come dice il nostro Papa, perde tutto. Noi dobbiamo sempre, ogni anno, non tanto aggiungere qualcosa, ma ogni anno appunto vivere sempre con quel desiderio che porti sempre qualcosa di nuovo. E quando si dice qualcosa di nuovo si intende qualcosa sempre di meglio. Soprattutto l'ottimismo di una comunità che deve crescere, magari non cresce più numericamente come era prima, però è sempre una comunità che si confronta con la fede stessa e inizia a capire che la Madonna veramente ci guida in questa compagnia che è la Chiesa. La comunità di Chiaravalle è particolarmente devota a Mere Santissima della Pietra. Il 10 inizierà la novena, ma io le chiedo un saluto a quanti non potranno partecipare, agli emigrati e quanti non potranno partecipare poi alla messa degli ammalati. Un pensiero va rivolto sicuramente anche a loro. Mi dispiace appunto che praticamente tanti non potranno partecipare, ma le modalità adesso per partecipare sono tanti. I social su questo aiutano e allora magari uno può partecipare seguendo le varie attività dei social, non tanto le foto perché davvero rischiamo di diventare un popolo di selfie, ma partecipare con le varie attività che ci sono come le messe che vengono trasmesse anche su Teleionio, e quindi anche i social, o anche seguendo per dire le varie meditazioni. Agli ammalati stiamo più vicini più che mai. Sabato ci sarà la Santa Messa insieme a loro, ma il nostro cuore naturalmente si allarga verso quelle persone che non possono partecipare fisicamente, ma poi andrò a visitarli personalmente con l'inizio dell'anno pastorale. Venerdì ci sarà la processione, vogliamo dare un po' gli orari degli incontri più importanti. Allora, venerdì praticamente alle ore 19 c'è la Santa Messa, che prima naturalmente c'è la Novena, poi dopo la Santa Messa c'è il Reduno in Piazza Dante e ci sarà questa grande processione che porterà la Madonna al santuario, e poi una volta che ci sarà il saluto alla Madonna inizierà la veglia notturna. Poi il sabato ci saranno messe a partire dall'alba, ci sarà la Messa alle 5 e mezza, alle 9, ma in particolare alle 11, la Messa con gli ammalati e l'unzione degli infermi, e poi la sera alle 19 ci sarà anche la Messa solenne. Poi ci sarà lo spettacolo musicale, i fuochi periotecnici, e dopo ci sarà la Messa conclusiva che riaprirà la seconda notte dell'adorazione notturna. Poi domenica, che è la festa centrale proprio della Madonna della Pietra, c'è la Messa in modo particolare alle 11, la Messa solenne insieme all'amministrazione comunale, e poi pomeriggio, da qualche anno stiamo facendo in questo modo, che alle 17 c'è la Santa Messa al santuario, e poi c'è la processione per le vie della città. Naturalmente alla sera della domenica anche lo spettacolo musicale, e poi lunedì quest'anno abbiamo voluto fare, insieme al Comitato Festa, un qualcosa di diverso. E lunedì in modo particolare il pomeriggio è dedicato proprio ai bambini. Ci sarà questo grande spettacolo per i bambini, ma anche per gli adulti, che ci sarà il classico torneo di briscola. E concluderemo con la Messa di ringraziamento alle 11 di sera, e poi ci sarà la processione del rientro della Madonna qui in Chiesa Matrice. Quindi l'appuntamento è il 10 agosto alle 17.30 in Chiesa Matrice per l'inizio della novena. Sì, inizieremo dal giovedì, questi nove giorni di preghiera. Naturalmente in questi nove giorni ci sono anche, oltre alla Messa della Domenica, c'è anche la grande festa della Madonna, dell'Assunzione in cielo, che celebreremo il 14 sera e anche il 15. Pina Fabiano, allora è stato un momento toccante la Santa Messa, ancora una volta in Via Loro, ma anche questi momenti conviviali, lei è una delle promotrici di questa festa. Sì, grazie, è vero, abbiamo un po' lavorato, però siamo contenti di essere qui tutti insieme, riuniti a Messa, e poi per questa convivialità siamo un po' così, stiamo un po' insieme con tutti. Bene, prossimo anno ci saremo ancora, vero? Speriamo meglio e ci saremo di più, speriamo meglio di quest'anno.